Voglio solo ringraziare i magistrati ed esprimere il mio pieno rispetto e il mio apprezzamento per il lavoro che viene fatto. Ci sono a volte situazioni amare per chi ha responsabilità pubbliche, ma io rimango assolutamente convinto che dobbiamo difendere con i denti l'autonomia della magistratura. Perché soprattutto in zone difficili come quelle nelle quali viviamo, dove il cittadino rischia di essere solo davanti a poteri criminali, l'autonomia della magistratura è un bene prezioso da difendere. Per il resto, se c'è un po' più di rispetto per la dignità delle persone e delle famiglie, credo che sia un bene per tutti quanti. E se anche il dibattito pubblico avviene con toni distesi, civili, credo che ne guadagni il livello di civiltà del nostro Paese.